Musica Abbiamo fatto uno spettacolo sulla mancanza di case alla Grabatella, un quartiere popolare di Roma. Portavamo le nostre idee davanti alle scuole, nei mercati, vicino alle chiese, e la gente accorreva. Usavamo il tamburo, il flauto, le nacchere, e portavamo le maschere. Era molto allegro. Ne abbiamo fatti diversi contro la guerra nel Vietnam, fra cui uno a Piazza Navona, che è stato molto bello, molto festoso, con la partecipazione anche di altri gruppi che venivano da tutta Italia. Dopo ho fondato, insieme ad altri attori con cui lavoravo, il Teatro della Maddalena. Era diretto da donne e si rivolgeva a un pubblico misto. Lì ho potuto trattare un tema a me caro, la condizione delle donne. Non c'è un uomo che so a cagliera, c'è una donna che so a cagliera, ma è famiglia di ci resta.